Tutto regolare nelle prenotazioni a causare le lunghe code di questa mattina al caffoncello sono stati quelli che senza mezze misure definisce imbucati. Il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, ricostruisce l'accaduto e non va per il sottile. Saremo costretti, dice, a chiedere ai cittadini di stampare il modulo di prenotazione e portarlo con sé e farlo verificare con attenzione dai volontari della protezione civile che fanno accedere i cittadini, molti dei quali continuano ad arrivare in largo anticipo rispetto all'appuntamento e questo peggiora le cose. Sede vaccinale che Benazzi ha determinato a eliminare l'ospedale. Stiamo però ragionando con Damoso Zanardo, la Pagnonsin, per fare appunto questo drive-in in modo tale da alleggerire il caffoncello. Quindi il caffoncello resterà solo per determinate patologie e partiremo col drive-in, quindi sicuramente il caffoncello sarà alleggerito. L'andamento dei contagi è buono, l'RT è a 0,98 ma da martedì si torna in zona arancione, da mercoledì riaprono le scuole e Benazzi chiede agli studenti massima attenzione perché, dice, dai ricoveri arrivano segnali preoccupanti. Oggi abbiamo avuto una cosa stranissima, abbiamo un ragazzo di 33 anni che si è ricoverato, due di 40 ieri, quindi vorremmo dire ai ragazzi state attenti. Dosi di vaccino, questa mattina alle 9 sono arrivate 24.000 dosi di Pfizer. Mercoledì si attende una fornitura importante di AstraZeneca. La campagna vaccinale può riprendere vigore. Riparte sicuramente con una potenzialità, diciamo facendo i conti, 4-5.000 vaccini al giorno e quindi comunque continua e non ci sarà, ci auguriamo più interruzione. È chiaro che però se dovessero arrivare più vaccini andiamo meglio perché così potremo ovviamente partire anche con un paio di drive-in importanti, quindi Treviso e Castelfranco, intanto Melody e poi se serve fare anche una sede che potrebbe essere anche Ponte di Piave come notturno.